musica 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 oiii tutto a posto mezza a posto amico spoggio andiamo nell'evento deserto dell'essenza a fare un giretto non penso ci sarà qualcuno io ci spero vi piace il mio nuovo taglio di capelli c'è anche la striscia qua solo no ok di qua c'è anche la ahhh c'è anche la striscia però non si vede perchè i capelli stanno la scema fu scema fu allora ci rimettiamo gli occhiali perchè la luce che abbiamo di fronte negli occhi è veramente troppo forte e andiamo a controllare un po' prima il premium del login quotidiano COTIDIANO è cotto è cotto il quotidiano di oggi ok possiamo buttarlo fa abbastanza schifo io non riesco a fare nessun boss se non il primo oppure il secondo quindi abbiamo bisogno in teoria abbiamo bisogno in teoria di qualcuno che ci scorti o qualcuno che utilizzi dei nuclei di essenza per noi non li troveremo mai non troveremo mai gente disposta a sprecare qualcosa oppure che sicuramente tutti hanno finito l'evento allora event red boss slots free ok aspettiamo un po' come vedete spero vedete che la grafica è migliorata l'ho fatto post per voi anche se non va proprio perfettamente limpido perfettamente veloce però ho messo la grafica al massimo così che possiate apprezzare al meglio al meglio il gioco ovviamente il gameplay have you frag for boss dimmi di si ok ragazzi allora allora can we go can we can we go possiamo andare tanto io c'ho io giusto ragazzi voglio le ah ok ok c'è l'evento ancora eh voglio giusto finire le essenze voglio prendermi le altre 2500 essenze perchè le essenze rosse fanno sempre fanno sempre scomodo ah questo sta già dentro nel frattempo ragazzi vi faccio vedere le mie statistiche le mie stati sti 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 Comunque, poi abbiamo con questo, non fate caso, alle gemme dentro, ovviamente aumentiamo un po', con questo aumentiamo l'impatto, con questo aumentiamo la velocity, la velocity, però l'impatto scende, e questo è meglio utilizzare questo, oppure questo con la velocità, però attualmente noi facciamo così. Allora, che cause, appunto, interrogativo, ho detto, can we go, possiamo andare? Non costringermi ad andare da solo, a non fare il boss. Ok ragazzi, si è ricordato, possiamo andare all'evento, via, andiamo, forza, forza, ragazzi, ho visto che vi è piaciuta la nuova serie di Minecraft, la serie FTP Infinity, ho visto che vi è piaciuta, avete messo like, avete commentato, ovviamente vi invito a passarci dal video, e vi metto il link sotto in descrizione e nei commenti, e a questo punto, a questo punto, andiamo a ammazzare un po' di gente, però prima, un attimo, perché devo sistemare un po' di roba, diciamo utilizzare dopo le blu, quando staremo verso le viola, oppure al massimo alle rosse, utilizziamo un po' di essenze, essenze della distruzione, Oh mamma mia, ah c'è il predator, sto stronzo, ragazzi, vi posso chiedere una cosa, come faccio a trasformare il mio arco in un altro arco? Cioè l'estetica, dico, eh? Come faccio? Come se fa? Come se fa? A trasformare l'arco e alludere la gente? Mamma mia che voce che sto a fa? Questo c'ha tipo tre quarti di velocità Comunque, a prescindere da questo, a prescindere da questo, io, ovviamente, ho fatto già un bel po'... Ehi, non laggare, perché lagghi? È strano, non lo faceva prima, forse perché ho messo la grafica a alta definizione, alta definizione, e mi lagga bestia! Guardate, mamma mia, eh, 5 fps, adesso crash. Mamma mia, Rosita, ma perché? Non lo so io, computer di merda, computer di mierda. Ok ragazzuoli, dovrebbe andare meglio? Eeeh, com'è? Perché è uscito, ricchione? Perché? Sangue da maranci. Perché? Perché mi devi fare così, vi dico io? Perché devo arrabbiarmi ogni volta? Scusami per il computer di merda che c'ho, eh, perdonami. Ok, questo programma per Dragon Sangue non è il migliore. No. 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 Grazie a tutti